Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui da VossofGame, oggi andiamo a fare soprattutto una simulazione quanto riguarda Ajax Benfica, ottavi di finale di ritorno soprattutto tra queste due squadre, squadre che assolutamente vogliono la qualificazione soprattutto ai quarti di finale, quindi andiamo a vedere cosa FIFA ci dirà. Bella ragazzi! Questa sconfitta, escono comunque a testa alta nonostante la sconfitta, perché è una giornata sorta, può capitare, io credo che sapranno sicuramente rialzarsi, già dalla prossima. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Ha dimostrato di avere l'argento vivo addosso Pier, mai un attimo fermo, sempre pronto a scattare sul filo del fuorigioco oppure ad abbassarsi per ricevere palla, la doppietta è il giusto premio per i suoi sforzi e per la sua prestazione. La gioco a profonda, l'idea non è male. E c'è il gol! Magnifica conclusione al volo! Klaassen! Haller! E c'è il gol, arriva dunque il pareggio! Occhio al contropiede! Haller! Può far male da lì! Inchiolibile questa parata! Haller! Klaassen! Può far male da lì! C'è il gol del più due, vantaggio che comincia a essere interessante! Occhio in mezzo, può cercare il cross! Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione! Voce, miracoli! Era più facile prendere gol qui che salvarsi! Vuole la volè! E c'è la rete! Attenzione perché adesso torna tutto possibile!